Sveglia i tuoi capelli con Ricapil Rapido, trattamento antigaduta clinicamente testato. Grazie alla tecnologia Crackle è ancora più efficace. Tre azioni in un unico prodotto. Rende i capelli più forti e belli, contrasta la caduta, aiuta la naturale ricrescita. Le sostanze necessarie al nutrimento del capello arrivano al bulbo capillifero tramite una rete di capillari che favoriscono la microcircolazione. Quando questo flusso viene disturbato o addirittura interrotto, il capello cade ed avviene il diradamento. Ricapil Rapido, con la sua rivoluzionaria tecnologia Crackle, permette ai suoi principi attivi di penetrare con maggiore efficacia in profondità, fino alla radice del capello, riattivando la microcircolazione, contrastando la caduta e favorendo la naturale ricrescita, grazie agli estratti di nove pianti officinali, ognuna delle quali è indicata per uno specifico trattamento del capello, fusto, radice e bulbo. Ricapil Rapido è 100% naturale, senza controindicazioni. Test clinici effettuati per oltre tre anni presso la clinica dermatologica di un'università italiana hanno riscontrato un miglioramento ed un aiuto nella naturale ricrescita dei capelli, già a partire dal primo mese di trattamento. Ricapil Rapido, con Crackle Technology, tre azioni in un unico prodotto, rende i capelli più forti e belli, ridonando corpo e vitalità. Chi l'ha provato, testimonia che in soli 30 giorni contrasta la caduta, riattivando la circolazione periperica e capillare. I follicoli vengono nutriti e ossigenati. Aiuta a stimolare la naturale ricrescita, regolando la secrezione di sebo del cuoio capelluto, liberandolo dal grasso in eccesso. Facile da applicare, asciuga in un attimo, indicato anche per lei. Potrete dire basta a prodotti difficili da applicare e costosi, che possono provocare bruciore ed una sgradevole sensazione, che non asciugano mai e vi fanno perdere tempo e denaro. Ricapil Rapido è facile e veloce da applicare. È sufficiente una dose di prodotto sulla parte da trattare, per ottenere risultati certi già a partire dal primo mese di trattamento. Non appiccica, non unge e dona una piacevole sensazione di fresco benessere. Un gesto quotidiano che ti aiuterà a contrastare la caduta e a favorire la ricrescita dei tuoi capelli. Un'esclusiva formula per le principali forme di calvizie e diradamento. Ricapil Rapido con Crackle Technology. Reazioni in un unico prodotto. Rende i capelli più forti e belli. Contrasta la caduta. Aiuta la naturale ricrescita. Ricapil Rapido, da oggi lo trovi anche in farmacia. Per maggiori informazioni o per conoscere la farmacia più vicina a te, visita il sito www.ricapilrapido.it Sveglia i tuoi capelli. Da oggi c'è Ricapil Rapido.